Allora, ti dico, sono deluso perché i ragazzi secondo me meritavano i tre punti per la benegnazione che hanno messo nel secondo tempo, la voglia di lottare su ogni pallone, in una partita che sapevamo che sarebbe stata una partita di questo genere qui, sporca, maschia, dove ogni palla bisognava lottare. I ragazzi secondo me l'hanno fatto e l'hanno fatto soprattutto nel secondo tempo molto bene. Come dici tu, il ramarico è molto grande perché in questo tipo di partite quando hai la fortuna, la capacità e la bravura di sbloccarle devi avere anche poi la stessa capacità di portarle a casa. Purtroppo questo non ci è riuscito anche dovuto al fatto che la Fermana ha fatto un gran gol. Sì, ci sono anche gli avversari. Sì, no, va bene, però non ho capito. Non collaboro. Ah, lo so, gli avversari fanno quello che è giusto che fare. È chiaro che c'è molto ramarico perché oggi veramente io ai ragazzi ho fatto i complimenti perché quando vedi che escono tutti i ragazzi con i crampi, con l'ultima goccia di sudore messa nel campo, è chiaro che meriterebbero i tre punti. Questo non è successo. Dispiace, allo stesso tempo dobbiamo stare subito attivi perché fra tre giorni, fra quattro giorni si rigioca e quindi recuperare energie e cercare di proiettarsi già alla prossima partita. Se tu potessi cambiare qualcosa nel primo tempo, cosa cambieresti? Sicuramente nel primo tempo è vero. Gli altri sono stati un po' più bravi di noi forse nel palleggio, nel fare qualche giocata. Però tutto sommato è stata una partita dove ci siamo equivarsi, abbiamo cercato e abbiamo preparato una partita del genere, abbiamo cercato di fare le nostre cose riuscendoci in parte. Sono delle idee. Al secondo tempo invece secondo me Cesena ha fatto un'ottima partita, l'ha sbloccata e purtroppo per chiudere il cerchio andava portato a casa il risultato. Questo è la cosa che contava più di tutti in questo momento. Il rimpianto non c'è nel senso che è chiaro che nel secondo tempo siamo, come hai detto te, abbiamo aperto magari un po' più gli spazi, abbiamo messo caratteristiche diverse sugli esterni e probabilmente abbiamo fatto meglio. Poi il primo tempo, Ciccio è un giocatore che secondo me può fare un po' tutto, sa legare il gioco, abbiamo cercato di tenercelo per poi andare anche a cercare... Ardizzone ha caratteristiche per andare a buttarsi anche dentro l'area di rigore e volevamo sfruttare quelle situazioni lì con gli inserimenti anche di Steffè e Collocolo e vedere di fare questo tipo di partita. Poi dopo è chiaro che abbiamo provato a cambiare nel secondo tempo e il risultato magari è stato migliore se è riuscito a sbloccarla, però poi come dico purtroppo è il fine che conta, è un pareggio che lascia molto rammarico. Si poteva battere e ci abbiamo messo tutto quello che avevamo oggi in corpo per provare a battere. Poi è chiaro che anche gli avversari lottano su ogni pallone, questo tipo di partite qui è la Serie C dove le partite vengono spesso decise da episodi. Noi abbiamo avuto la bravura, abbiamo la capacità nell'ennesimo calcio d'angolo di muover la palla e di sfruttarlo al meglio e poi purtroppo nella lettura del gol probabilmente potevamo stare un po' più compatti nella linea centrale del campo e poi Negli ha fatto anche un euro-goal che non gli si può dire niente. No, ribadisco, noi in questo momento qui avevamo bisogno dei tre punti per togliere ai ragazzi magari quel pizzico di non poca serenità, però di tranquillità che magari in questo momento potrebbe farli rendere ancora meglio. Perché i punti ragazzi poi alla fine sono quelli che danno serenità con quelli che ti fanno lavorare bene durante la settimana e quindi la vittoria è una cosa importante. Noi purtroppo venivamo da due sconfitte e nel primo tempo forse abbiamo avuto un po' questo tipo di... La squadra magari era un po' contratta anche per questo, non lo so, però... Dobbiamo cercare subito di ricaricarci e di andare a fare un'altra battaglia perché ogni partita in questo campionato sarà così, spesso. Certo, noi questo, allora, ogni partita il calcio piazzato, il calcio d'angolo in sé per sé sono fondamentali che nel calcio vediamo che sono la base di molti gol e quindi sia chi batte, sia chi va a saltare, sia chi deve essere protagonista di questa situazione deve essere concentrato al massimo e sfruttare al massimo la situazione. È chiaro che noi abbiamo giocatori come Petterman, come Ardizzone, come Russini stesso che hanno la capacità di riuscire a calciare bene. Dovremmo ancora di più essere più impattanti perché poi abbiamo anche gente che può dire la sua nelle zone aeree. Quindi questo è un fondamentale sicuramente che andrà migliorato, fermo restando che poi c'è anche tutto il resto, che sicuramente dobbiamo lavorare e continuare per migliorarci. Sì, speravo potesse essere più determinante perché abbiamo fatto, secondo me, un'ottima ripresa, un ottimo secondo tempo e dispiace perché potevamo portare a casa i tre punti. Però abbiamo subito, loro hanno fatto un gran gol, hanno trovato questo tiro da fuori e noi abbiamo provato a reagire, però purtroppo era troppo tardi. Sono contento per il gol, ma speravo che sarebbe potuto essere più determinante. Tutto qui. Sì, penso che Capanni sia entrato molto bene. È un giocatore, come avete visto, che punta sempre l'uomo e lo salta sempre. Quindi in una partita così bloccata ci ha potuto dare una mano perché è riuscito un po' a muovere la loro difesa. E quindi sicuramente è entrato alla grande e ci ha dato una grande mano ed è arrivato il gol. Sì, penso che il più grande rammarico è aver regalato il primo tempo perché a mio avviso eravamo ancora un po' bloccati e penso si sia visto. Non riuscivamo a trovare le nostre solite trame di gioco. Però poi ci siamo parlati a fine primo tempo e siamo entrati secondo me con una testa diversa. Eravamo molto più tranquilli e ci sono riuscite quasi tutte quelle cose che proviamo ogni giorno. Sì, è stata sicuramente una partita tosta perché anche a livello nervoso eravamo belli carichi e quindi quando si è determinati a fare una partita importante si spregano anche energie mentali. Quindi sicuramente è dovuto a quello e anche alla squadra avversaria che è comunque una squadra che ripartiva molto bene, molto spesso, quindi penso sia stato queste due le motivazioni. No, ma come dico sempre io lavoro in settimana, lavoro duro e cerco di aiutare il più possibile la squadra. Poi se attraverso il mio gioco arrivano i gol è ancora meglio. Però come dico sempre per me l'importante è il risultato di squadra e vincere il più partite possibile. Prosegue da questo secondo tempo e da quello che siamo sempre. è una squadra che deve essere spensierata e deve giocare super tranquilla perché abbiamo dimostrato che quando siamo liberi di testa e tranquilli possiamo dar fastidio a chiunque. Quindi ripartiamo da qua, dalla spensieratezza e da tutto quello che sappiamo fare. Sì, sicuramente non sapevo cosa aspettarmi perché è quasi un anno che non giocavo titolare. però vabbè allenandosi sempre al 100% qualcosa si racimo. Speravo di portarla a casa però purtroppo è arrivato il pareggio. Sì, relativamente. Sicuramente è un più. Però spero di entrare adesso in condizione migliore così da poter chiudere i 90 minuti e non farmi venire i grampi perché potevamo portarla a casa. Una volta che avevamo sbloccato la partita e avevamo fatto l'1-0 dovevamo portarla a casa perché vabbè che ha trovato un bel gol da fuori aria però magari se la fortuna ci girava meglio potevamo portare i tre punti a casa. Quindi il ramarico è questo. Sì, sicuramente siamo soddisfatti. Lo eravamo di più sicuramente con i tre punti se portavamo a casa i tre punti. È chiaro che col gol rovino un po' tutto perché chiaramente il morale magari non è lo stesso perché è una cosa che se porti a casa i tre punti è una cosa prendendo il pareggio in quel modo e sì, sì, è fatto tutto bene però alla fine non porti il bottino pieno a casa. Sì, sicuramente. Vabbè, l'anno scorso ho fatto solo una presenza con Mr. Viali e sono entrato terzino perché in quel momento avevamo bisogno in quel ruolo. Però comunque ultimamente mi alleno da centrale. È chiaro che mi riesce meglio perché è il mio ruolo e terzino magari mi trovo peggio. però è normale per me io nel proprio ruolo. Certo, spero, mi auguro, ma anche prima, anche non giocando, mi auguravo che arrivasse più presto il mio momento. Questo purtroppo... Adesso è facile dirlo perché è arrivato e ho fatto bene ma prima è stata magari un po' più dura perché devi stare sempre zitto, devi lavorare e questo fa la differenza penso poi alla fine.